Lui ne scriveva in un scrittoio a Casarza, qui in casa nostra, che si chiamava il Cameron e io avevo 13-14 anni e stavo tutto il giorno a guardarlo che scriveva con un inchiostro verde. Era il 1942 quando Pierpaolo Pasolini, ventenne, pubblica a proprie spese il suo primo libro, una raccolta di 14 poesie in friulano, rievocate dal ricordo del cugino Nico Naldini. Oggi, 77 anni dopo, viene stampata la riedizione di quelle poesie a Casarza, in due versioni, una tipografica con lo stesso carattere usato nella prima edizione, l'altra in facsimile. Entrambe edite da Ronzani sono accompagnate dal volume Il primo libro di Pasolini a cura di Franco Zabagli. È un esordio molto sorprendente, direi. Un libro che ha questa straordinaria originalità di aver scelto il friulano, quindi un idioma a suo modo periferico. Pasolini, con questa scelta, assolve quella che era l'utopia dei poeti simbolisti di trovare una lingua speciale per la poesia. Segnala inequivocabilmente lo straordinario sperimentalismo che caratterizzerà tutta quanta la sua opera. Questa operazione è solo il primo passo del più ampio progetto del Centro Studi Pasolini di Casarza, cioè ristampare, divulgare tutto quello che Pasolini produsse negli anni casarsesi, fino al 1950. In quegli anni lui produce dei libretti meravigliosi in versi. Il nostro intento, la nostra speranza è di poter poi procedere nel corso dei prossimi anni a rieditare tutti questi libricini che sono introvabili, sono oggetti ormai veramente preziosi nelle biblioteche, soprattutto dei bibliofili. Ma noi vogliamo che tornino a leggerli i giovani, le scuole, che possano accederci tutti.